Ciao a tutti, sono Micaela, Giulia, Carlotta e noi siamo le colleghe di Unità Mobile Gioco, un progetto finanziato da TS Regione Lombardia in cui la cooperativa Albatros e le fondazioni su maschi collaborano per portare in giro tramite il nostro banchetto dei giochi il tema della sensibilizzazione del contrasto al gioco d'azzardo, quindi noi ci occupiamo fondamentalmente di dare materiale informativo e di far giocare ai giochi che sviluppino delle abilità per dare messaggi di un gioco che promuove salute, fa star bene insieme e quindi tramite questo poi eventualmente diamo anche un indirizzo ai servizi territoriali pubblici gratuiti sul territorio come il CERD di Parabiago, ci facciamo un po' da tramite insomma e inoltre ci facciamo due chiacchiere se siete curiosi rispetto al tema del gioco d'azzardo.